Bene, l'ordine del giorno rega l'audizione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che si trova a gestire un dicastero che ha delle competenze molto legate all'attività della nostra Commissione, devo dire che anche nelle prime visite esterne, nelle prime audizioni che abbiamo portato avanti, ovviamente il tema delle istituzioni scolastiche e delle strutture di formazione è stato sempre al centro delle richieste che provenivano dagli amministratori locali, dai cittadini, dalle associazioni, dalle parrocchie, quindi è un tema particolarmente centrale nel nostro lavoro e come accennavo prima, sicuramente sarà importante poi creare in questi anni una sinergia con lei e con il suo Ministero, perché le tematiche sono tutte in grande evoluzione. Le comunico anche che nella giornata di lunedì 23 una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta si regherà a Napoli, Scampia, Caivano e sicuramente anche in quell'occasione avremo modo di approfondire alcune tematiche anche legate ad iniziative specifiche portate avanti dal suo Ministero già in questi mesi. Quindi ecco l'invito che intanto le rivolgo anche in prospettiva è quello di avviare con oggi una sinergia, una collaborazione, una interazione che può sicuramente essere profigua. Quindi Ministro le do la parola. Caro Presidente, gentili onorevoli, è con grande piacere che ho raccolto questo invito e ritengo anche che la proposta del Presidente di avviare una collaborazione molto stretta fra il mio di Castero e questa Commissione sia una proposta estremamente saggia e estremamente utile. Per quanto riguarda l'azione amministrativa, l'azione che caratterizza il Ministero dell'Istituzione del Merito, io ho voluto imprimere subito la centralità del recupero e della lotta alla dispersione all'interno di una visione del Paese che deve essere una visione unitaria. Nel senso che sono ben note a tutti le condizioni di drammatica differenza per quanto riguarda gli esiti formativi fra i giovani che vivono soprattutto in determinate aree del mezzogiorno d'Italia e i giovani che vivono in altre realtà più avvantaggiate del Paese. È una situazione questa, questi divari che sono attestati come ben noto da Invalsi, da Oxe, sono divari formativi moralmente inaccettabili, divari che privano di futuro. Molte migliaia di nostri giovani privano di una adeguata formazione ma anche di adeguate prospettive lavorative. E allora se il messaggio deve essere quello di riunire l'Italia partendo dalla scuola, io credo che noi dobbiamo fare una riflessione a 360 gradi su quello che la scuola può fare proprio in relazione con quello che è l'oggetto, sicurezza e degrado, quindi contrastare il degrado e favorire la sicurezza e favorire più in generale la crescita di tutte le periferie d'Italia e in particolare delle aree del mezzogiorno meno avvantaggiate. Sappiamo perfettamente che la povertà educativa è definita come la privazione della possibilità di apprendere, di sperimentare, di sviluppare capacità e talenti, di coltivare aspirazioni. Come dicevamo, tutto questo incide molto negativamente sulle opportunità di crescita educativa, fisica e socioemozionale dei giovani. In altre parole è l'impossibilità di accedere a risorse cognitive e culturali per la promozione della propria libertà individuale. Si tratta inoltre di una condizione sociale fortemente correlata alla povertà economica e troppo spesso la ridotta disponibilità economica si traduce in una drastica riduzione delle occasioni educative proprio nel periodo della vita in cui l'educazione e la formazione giocano un ruolo essenziale nello sviluppo della persona. I divari sociali, economici e di opportunità sono causati da molteplici fattori. Non esistono solo i noti e macroscopici divari fra le diverse regioni del Paese, ma anche quelli tra aree, talvolta distanti, poche centinaia di metri all'interno delle nostre città. Questo fenomeno impatta pesantemente sulle opportunità di inserimento lavorativo nei nostri giovani, favorendo fra l'altro il ben noto fenomeno dei NEET, ovvero dei giovani che non lavorano e non cercano un'occupazione. Un fenomeno che vede l'Italia purtroppo in una posizione drammaticamente ai primi posti a livello europeo. E quanto appena detto rappresenta uno dei drammi più gravi che riguardano la nostra gioventù, ragazzi che non hanno la motivazione allo studio, rimanendo così più esposti al rischio di disoccupazione, di inattività, di povertà e talvolta anche rischiando di finire preda di organizzazioni criminali che operano sul territorio. Ecco, vorrei partire da qua per fare una serie di riflessioni insieme con voi. Sono stato in alcune aree di frontiera, in alcune aree considerate difficili. Sono stato a Caivano, poi parleremo anche del progetto Caivano. Sono stato nella Locride, ma sono stato banalmente anche in alcuni quartieri, in un quartiere di Ostia dove anche lì vi sono emergenze sociali significative, importanti. e ho trovato però uno straordinario entusiasmo da parte dei giovani. Ho trovato persino uno straordinario entusiasmo da parte della popolazione. Quando io sono andato nella Locride, era la prima volta che un ministro dell'istruzione andava nella Locride. Credo che sia stato uno dei pochissimi ministri nella storia della Repubblica a recarsi nella Locride, in generale, al di là dell'istruzione. Bene, ho visto persone sui balconi, affacciati alle finestre che riprendevano con i telefonini, che ho visto ragazzi festanti, ho visto veramente l'entusiasmo per il fatto che lo Stato per la prima volta era lì. Era lì presente. E allora io credo che, ringraziando per lo straordinario lavoro che fanno le forze dell'ordine, la magistratura, ma noi dobbiamo essere consapevoli che se vogliamo recuperare certe parti d'Italia da un disagio sempre più forte, non possiamo non puntare sulla scuola. La scuola ha una funzione fondamentale. Ed è da qui che nasce, per esempio, il progetto di Agenda Sud. È la prima volta che si concepisce una proposta organica, strategica, specificamente concepita per le scuole del Mezzogiorno e in particolare per le scuole del Mezzogiorno che si trovano in aree di maggiore criticità oppure che hanno risultati formativi di particolare criticità. Innanzitutto diciamo subito che Agenda Sud interviene su 2000 scuole elementari, scusate se uso ancora questo termine, ma è molto più semplice e più facilmente comprensibile da tutti. 2000 scuole elementari del Mezzogiorno che avranno a disposizione risorse per realizzare attività formative e di contrasto alla dispersione scolastica, anche, ed è qui una delle novità importanti, oltre l'orario scolastico, perché l'obiettivo è di tenere aperte il più possibile le scuole e di tenere aperte le scuole al territorio. Poi c'è un intervento mirato che riguarda in particolare le scuole medie e le scuole superiori, secondarie di primo o di secondo grado, per essere più precisi, un intervento che si struttura in dieci punti specifici e che ha come obiettivi alcune attività che poi vengono ad innervare, a caratterizzare questi punti specifici, e cioè il contrasto alla dispersione, alla riduzione dei divari negli apprendimenti, il potenziamento delle competenze di base, la retribuzione delle ore aggiuntive svolte dal personale scolastico impegnato nell'attuazione di questi progetti, e anche questo è un passaggio importante, molto significativo, le attività laboratoriali, l'investimento quindi nello sport, nel teatro, nella musica, nell'educazione alla cittadinanza, nell'educazione al rispetto, l'apertura delle scuole al territorio. Per fare tutto questo ovviamente serve innanzitutto i finanziamenti, abbiamo stanziato 265 milioni e 500 mila euro, per essere più precisi, di euro, sono fondi PNRR e fondi PON, poi vi aggiorno anche sul discorso dei fondi PON, che sono particolarmente importanti pure quelli, e abbiamo sviluppato, in particolare per queste 245 scuole, poi vi specificerò anche come sono state individuate, abbiamo sviluppato, dicevo, un piano per punti. Innanzitutto l'idea che studentesse e studenti devono essere al centro della scuola, io continuo a dire la nostra è una scuola costituzionale, la scuola costituzionale è quella che mette al centro la persona, la persona del studente, la scuola al servizio della persona, un po' come lo Stato al servizio della persona, del cittadino. Cosa vuol dire questo? Vuol dire sempre più puntare su un insegnamento personalizzato, è l'applicazione ancora più estesa della riforma del docente tutor che abbiamo introdotto per gli ultimi tre anni delle scuole superiori in tutta Italia, qua invece la estendiamo anche ai primi due anni e alle scuole medie, e cioè l'idea proprio che ogni giovane abbia delle abilità, delle potenzialità, dei talenti che vanno individuati, la scuola ha il compito innanzitutto di individuare questi talenti e di valorizzarli, per far sì che nessuno rimanga indietro e per dare anche l'opportunità di correre. La possibilità per quei ragazzi che hanno ritardi di recuperare, ma anche, come dico, per quei ragazzi che in classe si annoiano, e anche questo è un altro fenomeno importante da considerare, di poter accelerare. Quindi una formazione tailor-made, sartoriale quasi, strutturata esattamente sulle potenzialità, sulle esigenze, sui talenti di ogni singolo ragazzo. Poi una didattica innovativa, una didattica che abbia al centro il laboratorio, e quindi tutta una serie di apprendimenti fortemente innovativi, con, come dire, il superamento di quell'idea della didattica frontale, delle lezioni frontali, l'introduzione di nuove metodologie didattiche, e da questo punto di vista, ovviamente una formazione dedicata, specifica, per quei docenti che operano in queste scuole. Noi andremo a formare specificamente i docenti che operano in queste scuole, non solo, ma non li abbandoniamo, mettiamo a disposizione i nostri istituti formativi fondamentali, indira e invalsi, che andranno anche sul territorio per supportare concretamente questi docenti, per far sì che questi docenti possano essere anche assistiti, aiutati, nello svolgimento di queste nuove modalità didattiche. Più docenti nelle nostre scuole, in queste scuole individuate, mediamente circa 4 docenti in più per ogni scuola. Solo a Caivano abbiamo portato 20 docenti per le 4 scuole, in questo caso non 5, quindi per scuola, per le 4 scuole onnicomprensive. Una scuola aperta tutto il giorno, non necessariamente per fare didattica, ma anche per fare attività che possono essere di recupero da una parte, di potenziamento da una parte, oppure attività ludiche, sportive, appunto come dicevamo prima, quelle attività che servono anche a tenere insieme i ragazzi. Il coinvolgimento delle famiglie, riteniamo che sia fondamentale anche questo, dialogare con le famiglie. In queste mie missioni nella Locri, da Caivano, in altre realtà, io ho trovato comunque voglia delle famiglie di partecipare. E noi dobbiamo ricostruire questa alleanza, soprattutto in quelle realtà più delicate e più difficili. Un altro aspetto, la promozione del tempo pieno, tempo pieno, quindi oltre alla scuola aperta tutto il giorno, anche la promozione del tempo pieno, quindi di una didattica prolungata. L'utilizzo dello sport come grande strumento per, come dire, coinvolgere i giovani e per diffondere anche valori che riteniamo siano particolarmente importanti. ma accanto a questo abbiamo previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro nel decreto Caivano, poi parleremo anche più specificamente del decreto Caivano che ovviamente non si riferisce soltanto a Caivano, perché la prima emergenza è quella di portare i ragazzi a scuola. I tassi di dispersione in certe realtà del nostro paese sono talmente elevati che stanno a testimoniare come la missione più importante, più delicata sia quella di portare i ragazzi a scuola. E allora azioni di recupero sociale e anche di sostegno psicologico proprio per far sì che i ragazzi vadano a scuola. Vedete, io sono rimasto molto impressionato quando ho sentito la storia di alcune docenti, una è nel quartiere Zen, un'altra è una storia personale che mi ha raccontato una docente di Caivano che andavano casa per casa a convincere le famiglie a mandare i ragazzi a scuola, a portarli a scuola. Allora ho detto non può essere tutto questo abbandonato al volontariato del singolo docente. Dobbiamo strutturarlo investendo delle risorse, investendo su un sostegno sociale, su un sostegno psicologico, coinvolgendo le famiglie. Questo è il primo passaggio. Poi ovviamente ci vuole tutto il potenziamento dell'attività didattica. Ma ci vuole anche una visione nuova di scuola, cioè di una scuola che sia il motore, il centro moltiplicatore dello sviluppo del territorio. La scuola che noi vogliamo costruire, una scuola su cui poi, come vedrete, cerchiamo anche di investire le risorse, risorse non soltanto PNRR, ma anche risorse nostre, ministeriali, che abbiamo individuato, la scuola deve sapere essere un centro che moltiplica lo sviluppo dell'intero territorio. Ecco perché la scuola è aperta. Ecco perché la scuola che sa coinvolgere i cittadini. Proprio a Caivano ho visto una testimonianza molto bella di un liceo scientifico, tra l'altro un bel liceo scientifico che non è una scuola tra virgolette problematica. Un liceo scientifico che in questo bellissimo chiostro con tra l'altro un pozzo meraviglioso ricostruito ma con ceramica originale meraviglioso, stupendo, con i fiori, curato benissimo, bene, i ragazzi mi hanno raccontato che di pomeriggio alla sera si raccolgono per commentare, studiare, studiare, ma neanche, non è uno studio, per commentare e leggere dei brani classici. Allora io ho detto ragazzi ma voi dovete coinvolgere anche la gente del vostro quartiere, portate qui anche degli adulti, discutete, dialogate, commentate insieme con loro questa bellezza. Ecco, ecco perché io ritengo che la scuola sia veramente lo strumento più importante per recuperare e rilanciare. Allora veniamo poi a una serie di altre iniziative per esempio nel decreto Caivano abbiamo stanziato 12 milioni di euro per l'incremento delle persone alleate, abbiamo bisogno di persone alleate anche per tenere aperte le scuole, per il potenziamento dell'organico dei docenti per tutte le scuole pilota 13 milioni e 300 mila euro altri 13 milioni e 300 mila euro oltre ai 12 milioni per il personale alleata per il piano agenda sud 25 milioni come già anticipavo per queste azioni di supporto sociale e psicologico per far venire i ragazzi a scuola incentivi economici per 6 milioni di euro per far sì che i docenti rimangano in queste aree in queste scuole di queste aree più complicate perché noi abbiamo un altro dramma quello della fuga dalle aree più difficili e nessuno vuole andare a insegnare e io ammiro e apprezzo quei docenti che sino ad oggi hanno svolto direi scusatemi se uso questo avverbio un po' retorico ma direi eroicamente le loro funzioni il loro servizio in aree difficili del nostro paese noi dobbiamo incentivarli dobbiamo incentivarli con risorse dobbiamo incentivarli anche con punteggio con punteggio aggiuntivo vai in certe aree di frontiera avrai un punteggio aggiuntivo beh su Caivano noi abbiamo assegnato un milione e seicento mila euro e soprattutto abbiamo fatto abbiamo portato 20 docenti in più per le quattro scuole coinvolte da questo progetto soprattutto abbiamo discusso con le scuole perché tutto questo deve avvenire nel dialogo con le scuole abbiamo discusso con le scuole che progetti loro volevano che noi supportassimo e abbiamo e per la prima volta che si fa in Italia un protocollo sottoscritto da cinque scuole di Caivano e dal ministero per la realizzazione di tutta una serie di progetti con scambi di risorse umane e didattiche una cosa molto bella pensate che nella scuola Parco Verde dove è successo dove è successo dove è successo dove è successo nella scuola dove è frequentata da quelle due ragazzine che sono state drammaticamente oggetto di quel terribile caso di abuso no? che voi ben ricordate noi abbiamo portato per i cento ragazzi di questa scuola cento tablet cento zainetti con dentro libri astucci quaderni abbiamo portato anche altro ovviamente abbiamo portato anche i docenti ma questo è stato accolto con entusiasmo indicibile da questi ragazzini poi in altre scuole abbiamo elaborato per esempio un piano per il sostegno alla disabilità in altre scuole per esempio per la valorizzazione di attività di educazione musicale che vedono in quelle scuole delle eccellenze e via dicendo insomma dei protocolli un protocollo unitario che poi si è dipanato in tanti singoli protocolli in tante azioni specifiche concordate con le scuole evidente che tutto questo richiede una attenzione a 360 gradi allora io devo fare i complimenti anche al personale del mio ministero che nella interlocuzione con la commissione europea è riuscita ad ottenere per i finanziamenti PON un miliardo di euro in più rispetto al precedente piano sono circa 3 miliardi e 8 se non ricordo male il nuovo piano un miliardo secco in più potenzieremo ulteriormente gli interventi per agenda sud l'idea è anche quella di intervenire in quelle periferie delle grandi città del centro nord dove anche qua si iniziano ad avvertire situazioni di degrado e di emarginazione tutto questo poi si va ad aggiungere al miliardo di euro che il PNRR stanzia per la dispersione scolastica parte di queste risorse noi utilizziamo proprio per questi interventi si va anche ad aggiungere a quegli interventi che noi abbiamo grazie ai fondi PNRR 600 milioni di euro per la formazione STEM sulle materie STEM anche qui un altro settore di criticità soprattutto in certe realtà del nostro paese ai 150 milioni di euro che noi abbiamo destinato per il docente tutore e per il docente orientatore queste sono risorse nostre ai 450 milioni di euro per la formazione del personale scolastico sulle nuove metodologie digitali e anche qui ho visto in alcune realtà del sud delle aule meravigliose grazie proprio a questi interventi al piano per l'edilizia scolastica ora ai 3 miliardi e 900 milioni di euro destinati dal PNRR noi abbiamo aggiunto con fondi ministeriali trovati nelle pieghe del bilancio un altro miliardo 200 milioni di euro quindi complessivamente più di 5 miliardi per l'edilizia scolastica che avrà anche qui una particolare attenzione in quei comuni in quelle realtà di particolare disagio per esempio posso anche citare il piano mense e il piano per le palestre con il PNRR sono stati investiti 400 milioni sulle mense 300 milioni sulle palestre a dicembre abbiamo aggiunto 280 milioni di fondi a questo stanziamento PNRR con una particolare attenzione per quelle aree del mezzogiorno che sono del tutto prive per le scuole situate nelle aree del mezzogiorno che sono del tutto prive di infrastrutture sportive o di mense perché la mensa è importante perché la mensa favorisce il tempo pieno favorisce la permanenza nella scuola se non c'è la mensa il bambino torna a casa ecco questo è un altro aspetto credo molto molto significativo molto importante che noi abbiamo voluto sviluppare proprio nella consapevolezza che puntando sulla scuola che noi possiamo come dire recuperare determinate realtà poi certamente ci vuole anche un minimo di coazione nei confronti di quei genitori che non mandano i figli a scuola e magari preferiscono mandarli a lavorare in nero o a svolgere attività illecite e sapete che il decreto di Caivano ha introdotto una sanzione sino a due anni di reclusione per quei genitori che disattendono radicalmente l'obbligo scolastico per i propri figli qui abbiamo modulato in modo che ci sia l'avvertimento preventivo da parte delle istituzioni scolastiche e quindi il fatto che la scuola faccia innanzitutto prima una pressione una moral suasion tra virgolette sui genitori perché mandino perché scrivano perché tengano i figli a scuola e poi dove invece si preferisce deprivarli del loro futuro e allora credo che sia giusto anche intervenire con altre sanzioni poi il discorso del contrasto al bullismo al cyberbullismo un altro tema che mi sta molto a cuore perché il degrado e la sicurezza parte anche dal fatto che nelle scuole noi dobbiamo e quindi il contrasto al degrado e il favore verso la sicurezza si realizza anche facendosi che nelle scuole si riaffermi la cultura del rispetto rispetto verso tutti oggi l'ho detto anche in una intervista radiofonica io credo che noi dobbiamo ripristinare la cultura del rispetto verso chiunque verso chiunque e noi non possiamo accettare che nelle nostre scuole possano in qualche modo rievocare e cheggiare istinti di tipo razzista di tipo antisemita di tipo discriminatorio nei confronti di chiunque nei confronti di chiunque qualunque sia la sua religione qualunque sia la sua origine etica qualunque sia la origine sociale nei confronti di chiunque ecco questa è la scuola che mette al centro la persona una scuola che sappia valorizzare la bellezza della persona dello studente io lo dico sempre incontrando questi ragazzi trovo molto spesso molto frequentemente delle persone veramente stupende meravigliose dobbiamo anche sfatare un pregiudizio un luogo comune è vero ci sono i bulli è vero un fenomeno in aumento è vero c'è il cyberbullismo ma la stragrande maggioranza dei nostri giovani non sono né bulli né ragazzi che compiono atti su internet deplorevoli sono ragazzi che hanno soltanto voglia di essere considerati di essere valorizzati come probabilmente anche i bulli e anche coloro che svolgono attività di cyberbullismo chiudo questo mio intervento partendo da un'esperienza che mi ha toccato molto sono stato in alcune scuole di formazione professionale in queste scuole di formazione professionale c'erano ragazzi che erano stati bocciati più volte e va bene ma c'erano soprattutto ragazzi che avevano avuto problemi con la giustizia ben al di là del bullismo rapine spaccio di droga furti lesioni gravi beh questi ragazzi quelle scuole li avevano riscattati li avevano motivati avevano saputo accendere quella fiammella che c'è in ogni giovane che attende soltanto di essere accesa un percorso formativo da qui anche e voglio aggiungere la riforma dell'istituzione tecnico-professionale un percorso formativo che sappia valorizzare le potenzialità le abilità i talenti di ogni giovane è il miglior antidoto nei confronti del bullismo perché anche quei ragazzi che come dire hanno comportamenti come dicevamo prima riprovevoli se li si sa motivare se si sa capire quali sono le loro potenzialità i loro sogni le loro aspirazioni e se la scuola sa dare una risposta vera concreta a questi sogni a queste aspirazioni anche quelli saranno sicuramente recuperati e per loro la scuola sarà un momento di riscatto ecco io credo che con queste mie riflessioni si possa concludere questa mia breve relazione nella completa disponibilità a far sì che interlocuzioni di questo tipo proseguano e si accentuino proprio come diciamo all'inizio perché credo fortemente nella collaborazione fra questa commissione e il lavoro che il mio ministero sta svolgendo grazie grazie ministro per la sua relazione che tra l'altro ci ha dato tutta una serie di spunti che potremo approfondire nel corso dei nostri lavori tra l'altro ci ha dato anche alcuni input che potremo già come dire approfondire e verificare nel corso della nostra missione della settimana prossima quindi chiederei ai colleghi sia ai colleghi presenti che ai colleghi collegati da remoto se ci sono delle domande o degli interventi collega pensa gli do la parola grazie presidente ringrazio anche il ministro per l'illustrazione che ci ha fatto molto ampia io signor ministro sono un cittadino di Caevano quindi Caevano la conosco benissimo perché sono nato di siedo ancora oggi lì a Caevano sono contento che le è piaciuta la nostra scuola il nostro liceo quello è un liceo che se avremo modo di passarci era un vecchio monastero che poi è stato convertito in scuola mi dispiace non ho potuto vedere il castello comunale di Caevano io sono stato anche amministratore locale avevo lanciato una proposta dato che nel castello ci sta già la biblioteca comunale molto attrezzata con una dirigente insomma che è capace di gestire in modo eccellente direi la biblioteca comunale per quello che mi è dato di conoscere perché ovviamente non ho seguito la questione avevo altri compiti quando sono stato amministratore locale però diciamo all'amministrazione avevo proposto di istituire ad esempio all'interno del castello comunale ex sede ex palazzo comunale adesso ne è un altro perché fermo il castello in disuso di creare lì all'interno un polo universitario so che sono state avanzate alcune ipotesi anche se a prescindere quale sarà poi la destinazione finale di quel castello a me piacerebbe che fosse che diventasse anzi appunto un polo universitario perché l'università come le altre scuole andrebbe a completare un ciclo che i ragazzi potrebbero poi ovviamente fare vede che vanno a una problematica grossa oltre a quella della criminalità che poi è una conseguenza non è l'input cioè quindi non è l'inizio è la conseguenza ovvero quello che è che vanno sostanzialmente non c'è nulla come movita come vita allora l'università inizia a creare già una prima affluenza anche di ragazzi che vengono da fuori ed è e incominciano a frequentare che vanno vedi chi ha frequentato l'università sa che un pochettino le scuole diventano anche un po' casa propria quindi uno è legato anche lì dove ha studiato io ho studiato a Caserta quindi sono legato a Caserta in modo molto profondo ecco questo io penso sia anche un buono spunto da esaminare per l'università e utilizzare il castello perché si trova proprio a centro di Cervano di fronte ci sta una bellissima piazza perché comunque Cervano ha una bella struttura oltre che storicamente ha tanta storia da raccontare la problematica del parco verde con le scuole io l'altro giorno dal prefetto facevo un'analisi e penso che questa è una testimonianza che potrebbe servire un pochettino a tutti per capire un po' come è fatta anche la realtà caevanese vede Caevano ha un quartiere che si chiama Parco Verde quindi Parco Verde fa parte di Caevano questo è un dato oggettivo io noto e ho visto e constatiamo sempre che ho un accento diverso rispetto ai ragazzi e chi vive nel Parco Verde uno dice perché come è possibile questa cosa ma parliamo anche di strade di fronte quindi al Parco Verde perché perché chi nasce nel Parco Verde rimane nel Parco Verde vive nel Parco Verde lavora nel Parco Verde per quello che può essere chiamato lavoro se è illegale e va a dormire di nuovo nel Parco Verde quindi non esce da quei quartieri e conserva l'accento che è diverso dal nostro quindi quello caimanese che è più simile a quello napoletano perché quelli là sono abitazioni che sono state poi abitate da ex sfollati di Napoli quindi persone che hanno un accento già di natura diverso dal nostro dagli anni 80 ad oggi si sarebbe dovuto perdere comunque con le nuove generazioni no loro lo conservano perché effettivamente ci sono dei ragazzi che crescono là dentro là e rimangono là dentro là non può essere perché ci sono ancora oggi persone che io nonostante essendo stato anche amministratore locale non ho mai visto perché vano perché rimangono solo in quei quartieri ovviamente qual è il messaggio il messaggio è bisogna cercare di indirizzare un tipo di politica che serva a convincere o se no a costringere ragazzi anche ad uscire fuori da quei quartieri perché soltanto uscendo fuori si vede che esiste un'altra realtà purtroppo è un diaframma sottile che ci separa ma bisogna bucarlo e quello aspetta la politica questo arduo compito di bucare quel diaframma che separa quel velo che ci divide perché devono capire dobbiamo capire anzi noi noi della politica dobbiamo capire che per dare la possibilità ai ragazzi ai quartieri più degradati ma non soltanto quelli di Caivano in Italia ce ne sono tantissimi in Campania forse ce ne sta il Noplusutra dato all'edilizia degli anni Ottanta che abbiamo condannato al primo momento e che ovviamente abbiamo capito che con gli anni si sono trasformati in ghetto le scuole poi possono essere anche un elemento formativo unitamente alla zona industriale di Caivano Caivano c'è una zona industriale che è tra le più grandi se non la più grande del sud Italia e nella zona industriale se prendiamo una fabbrica di 200 persone su una fabbrica di 200 persone sai quante i caivanesi ci lavorano? due è un esempio questo perché perché magari la formazione a Caivano non viene fatta per quelle attività che stanno nella zona industriale allora da noi vengono a lavorare quelli da Cerro perché magari studiano in scuole che servono magari alla zona industriale i nostri magari vanno a trove se vanno quindi questo è un altro elemento che la prego comunque di tenere in considerazione per quanto riguarda il decreto Caivano è interessante vedere anche per diciamo convincere le famiglie o comunque a collaborare per inviare i figli a scuola l'unico modo per ottenere questo risultato è la promessa di una sanzione in altri stati ci sta invece l'incentivo non la sanzione quindi convertire la sanzione in incentivo e chi manda i ragazzi a scuola questo avviene nei paesi del nord Europa parliamo del Belgio per esempio le famiglie vengono incentivate in base diciamo vengono incentivate con l'invio dei ragazzi a scuola anche con delle somme è chiaro che se noi mettiamo i libri della scuola una famiglia per mandare un figlio a scuola ci deve mettere 400 euro vicino magari il ragazzo non ha nemmeno voglia di lavorare cioè lavorare inteso come studiare non ha nemmeno voglia di studiare però la famiglia dice tu non vuoi studiare devo spendere 400 euro per i libri come devo uscirmene da questa situazione quindi diciamo può anche essere accolta da un certo punto di vista la sanzione in mora ai genitori però poi noi come amministratori riusciamo ad andare incontro all'esigenza anche di questa famiglia ci troviamo famiglie che non lavorano per studiare c'è bisogno di soldi per comprare i libri i figli però se i figli non vanno a scuola perché non hanno voglia o comunque non riescono a convincerli ad andare a scuola noi gli diamo la promessa di una sanzione se non li mandano e poi dopo rischiamo ovviamente di avere anche una sorta di ritorsione da parte di queste famiglie e a quel punto direi forse anche giusto perché se mandare il mio figlio a scuola oltre da non avere il lavoro ho 400 euro di libri che devo comprare in un anno magari i figli sono 3 sono 4 8 12 sono 1200 euro e mio figlio già non c'ha voglia di andarci io perché devo combattere devo combattere perché sennò mi devo andare a fare due anni di reclusione io non so se questo è un indirizzo giusto però dall'altra parte dobbiamo mettere in prima in condizione il genitore forse di non avere alibi non avere alibi per non avere alibi dobbiamo creare le condizioni adatte una volta create condizioni adatte che ben vengano eventuali sanzioni però dobbiamo rendere questa strada percorribile a tutte le famiglie non dico stante perché parliamo in senso generale quindi dell'Italia per adesso io penso che ho chiuso così l'intervento perché è stato molto interessante quello che ha detto il Ministro e lo ringrazio grazie al collega Pensa collega Milani Fratelli d'Italia grazie Presidente ma intanto per ringraziare il Ministro Valditara che ha molte cose da fare di essere venuto qui appunto a riferire in commissione una commissione che ricordo una commissione d'inchiesta sullo stato integrato delle città in particolare delle periferie quindi giustamente nella sua esposizione lei ha posto l'accento e si è sentito anche con grande passione anche dal mondo diciamo da cui lei stesso proviene quindi è chiaro che c'è un afflato diciamo in quello che lei fa come Ministro riguardo appunto a tutti gli operatori del mondo della scuola ma io volevo mettere in luce soprattutto due aspetti che lei ha citato e cioè questo piano delle mezze scolastiche devo dire che dobbiamo veramente andarne orgogliosi perché consentire e far percepire alle famiglie e consentire che le scuole siano tutte possibilmente quanto è più possibile quanto meno diciamo siano un luogo di aggregazione non solo di apprendimento durante la mattina che ovviamente tale è e tale rimarrà ma un luogo di aggregazione anche per il pomeriggio appunto è un fatto fondamentale e poi molte volte anche nelle situazioni di appunto di difficoltà e nei quartieri periferici perché ovvio che questo piano è un piano di livello nazionale e riguarda tutti gli ambiti però nelle periferie far sì che questi bambini possano mangiare in mezze scolastiche con dei menu studiati appositamente per quella fascia d'età e che quindi purtroppo parliamo di situazioni anche di grande difficoltà molte volte a casa non c'è la possibilità di far mangiare questi bambini in maniera corretta e quindi insomma la scuola va a sostituirsi attraverso il piano menze anche in questa diciamo importante attività che è anche l'educazione alimentare dei nostri figli secondo aspetto che volevo mettere in luce e che vedo positivamente e invito a dare maggiore slancio a questo è appunto la premialità per i docenti che scelgono le cosiddette sedi disagiate questo è importante perché non possiamo cioè se noi vogliamo invertire la rotta appunto di alcuni quartieri di alcune situazioni come quella che il collega Denza ha qui rappresentato di Caevano che conosce direttamente ma ce ne sono ahimè tantissime in Italia per invertire la rotta i cittadini devono capire che lo Stato gli è amico gli è vicino con tutti gli strumenti che può è chiaro che un ministro non può conoscere la singola situazione il singolo istituto e le sue problematiche ma deve favorire il fatto che ci siano persone che scelgono di andare qui e che non sono penalizzate per questo ma al contrario vengono appunto promosse e premiate nelle modalità che voi come ministero vorrete decidere di attuare però si deve capire appunto che scegliere delle situazioni difficili non è un demerito per sé per la propria carriera ma al contrario è un merito e va incentivato giustamente perché lo Stato appunto favorisce gli insegnanti che scelgono di dare una mano alla nostra società a tutta la collettività grazie grazie al collega a Milani se ci sono altri colleghi anche tra quelli collegati da remoto sono pregati di fare segno diciamo questo aspetto benissimo allora ringrazio l'onorevole Penza e Milani dunque scuole come momento di crescita del territorio questo è uno dei passaggi direi centrali che poi in fondo è anche quello che diceva lei quattro punti di intervento innanzitutto per far sì che i ragazzi vadano a scuola le azioni di sostegno sociale e psicologico azioni di sostegno sociale e psicologico vuol dire proprio venire incontro alle necessità delle famiglie ma anche il sostegno psicologico per far sì che ci sia la consapevolezza e l'educazione alla scuola poi il rendere attrattiva la scuola non soltanto bisogna convincere famiglia a mandare il ragazzo a scuola ma anche il far sì che il ragazzo ci vada volentieri a scuola allora tutta una serie di attività di azioni che non rendano un incubo pesante il frequentare la scuola proveniendo da determinate realtà che certamente non favoriscono una concezione positiva della scuola poi il tema di docenti particolarmente formati didattiche fortemente innovative perché sappiamo perfettamente che docenti didattiche sanno tenere a scuola il ragazzo altrimenti l'altra forma di dispersione è che il ragazzo non solo non vada a scuola ma se ne vada la scuola non frequenti più e poi infine c'è anche la sanzione perché se dopo l'incentivo sociale dopo l'assistenza psicologica dopo la didattica dopo che la scuola vuole essere un luogo cioè voglio dire bello e attraente anche per chi magari ha un pregiudizio contro la scuola perché chi viene da certi da certe aree in certi contesti come lei anche diceva giustamente ha un pregiudizio verso la scuola quindi bisogna renderla attrattiva al di là e dopo che si è investito tutto questo e poi ci vuole anche la sanzione su questo credo che sia l'altra cosa mi ha colpito molto quello che diceva del dialetto ed è uno dei temi che noi abbiamo affrontato non il dialetto ovviamente ma uno dei temi che noi abbiamo affrontato proprio è mandare i ragazzi fuori contesto quei 25 milioni serviranno anche per favorire viaggi studio per favorire presenza in altre realtà in Italia o magari anche all'estero per venire a contatto con realtà particolarmente positive stimolanti con anche come dire realtà sociali diverse questo è uno dei temi che ritengo centrali molto significativi per favorire anche l'evoluzione della mentalità a cui si faceva riferimento lo sviluppo lo sviluppo del territorio noi investiamo anche in un progetto che vuole mettere in collegamento insieme col Ministero sviluppo economico e il Made in Italy insieme con il collega Urso per mettere in collegamento le imprese con il Morano per far sì che tutto questo sia anche un'occasione di insediamento produttivo perché io sono veramente convinto ho dimenticato il decimo punto di Agenda Sud l'idea cioè di far sì che la scuola possa d'intesa con le forze produttive con le realtà del territorio assecondare lo sviluppo so che su questo non ci troveremo d'accordo ma io invece ritengo che sia stato molto positivo aver trovato le risorse per finanziare il Ponte sullo Stretto faccio questo esempio perché il Ponte sullo Stretto richiederà delle maestranze ma richiederà soprattutto le gestioni di servizi dopo una volta realizzato che richiedono delle competenze che oggi non ci sono che oggi il sistema scolastico non è in grado di fornire ma cito un esempio che forse le piacerà di più Cosenza Arcavacata ha uno straordinario dipartimento di informatica che però non è supportato da una presenza sul territorio di scuole di istruzione tecnico professionale di avanguardia che possano costruire una filiera in modo da far sì che ci siano insediamenti produttivi per cui quei brevetti divengano delle potenzialità enormi per lo sviluppo del territorio ecco allora che cosa vuol dire il decimo punto è proprio questo individuare di intesa con le regioni con gli enti locali quegli insediamenti formativi di istruzione tecnico professionale in particolare che possano far esplodere lo sviluppo del territorio di intesa con gli insediamenti imprenditoriali onorevole Milani educazione alimentare fra l'altro abbiamo fatto anche una intesa con col diretti è un tema che sta molto a cuore a questo governo a me al ministro Lobrigida abbiamo fatto quella convenzione anche perché fra l'altro puntando proprio sul discorso delle mense mense dove ci sia l'alimentazione chilometro zero la valorizzazione dei prodotti del territorio ma anche la valorizzazione dei prodotti buoni le famiglie si devono fidare non la mensa che abbiamo visto abbiamo letto negli anni passati tante inchieste tanti scandali in tanti comuni d'Italia che poi magari c'era ecco proprio perché anche qui non soltanto l'investimento soldi per le mense ma anche mense di qualità ecco anche in questo clima di fiducia io credo che noi possiamo far sì che le nostre scuole possano sempre più essere un luogo di crescita collettiva sociale di coinvolgimento di fiducia delle famiglie appunto bene grazie ministro io le chiedevo solo qualche notizia in più su Agenda Sud quindi lei ci ha parlato del fatto che saranno coinvolte duemila scuole elementari volevo sapere se c'è già diciamo una serie di steppe che sono stati individuati e anche magari qualcosa sulla tempistica e poi ecco ho anticipato il collega Milani sul discorso del piano mense lei ha parlato piano mense e palestre che diciamo pur essendo due ambiti diversi sono però collegati da una finalità in parte simile quindi magari se su questo anche sia oggi se vuole oppure ci può dare qualche elemento in più perché credo possa essere interessante Agenda Sud parte subito ovviamente i tempi tecnici per a Caivano ho già firmato il decreto per portare i 20 docenti in più quindi insomma abbiamo già firmato il protocollo per esempio la direttrice dell'ufficio scolastico regionale della Calabria ha già costituito un tavolo con tutte le forze produttive proprio per individuare quelle localizzazioni anche formative che siano più coerenti con le potenzialità di sviluppo del territorio indire invalsi stanno già prestando dei moduli formativi da mettere a disposizione dei docenti quindi insomma sta già partendo ovviamente poi con i tempi tecnici per tutte le realizzazioni 265 milioni e mezzo per Agenda Sud a cui si aggiungono le risorse del decreto Caivano quindi sono circa complessivamente 325 milioni di euro per quanto riguarda il discorso degli investimenti ho fatto prima cenno a quanto abbiamo investito di fondi PNRR e anche di fondi nostri ministeriali su palestre e mense noi abbiamo già anche il dettaglio sia per quanto riguarda Agenda Sud delle singole scuole interessate che sono state selezionate non sono state selezionate discrezionalmente dal ministero sono state discrezionate da invalsi sulla base di alcuni indicatori costruiti da questo istituto di ricerca e di supporto al ministero cioè per esempio la fragilità del territorio l'indice di dispersione di abbandono scolastico di insuccesso formativo insomma ci sono 5 o 6 indicatori che loro hanno costruito sulla base di questo hanno stilato l'elenco di quelle realtà scolastiche più a rischio di dispersione e quindi partiamo da queste per quanto riguarda l'elenco dei singoli interventi oltre alle risorse per mense palestre che vi ho già evidenziato sottolineando quanto noi 285 milioni di euro abbiamo aggiunto rispetto ai fondi PNRR se volete posso farvi avere anche posso farle avere Presidente un dettaglio più possiamo fare avere anche il dettaglio delle scuole interessate dall'agenda su grazie grazie ministro se non ci sono altri colleghi che vogliono intervenire ringrazio appunto tutti i parlamentari presenti i parlamentari collegati dal remoto ma ringrazio soprattutto il ministro noi prendiamo per buono l'impegno che lei ci ha confermato di poter interagire perché è chiaro che le tematiche che lei tratta quotidianamente sono molto legate all'attività di questa commissione tra l'altro già lunedì avremo appunto modo di verificare sul campo alcune situazioni credo che sia stata un'audizione per noi molto interessante che ci fornisce degli spunti molto molto utili per il nostro lavoro quindi la ringraziamo ministro e le diamo appuntamento a presto arrivederci a presto Grazie a tutti